Allora, la lezione di oggi va a completare un po' la lezione che avete fatto, cominciato col professore Betta, nella scorsa volta, in particolare sul ponte di Winston. Vi siete lasciati nell'ultima lezione col fatto che il ponte di Winston fondamentalmente può essere utilizzato come metodo di misura delle resistenze con precisioni dell'ordine di una parte su 10.000, però è possibile migliorare la precisione attraverso due tecniche che vedremo oggi, che sono la tecnica della doppia pesata e la tecnica della sostituzione. Nel descrivere questi due metodi, non abbiamo a disposizione slide, quindi io adesso condividerò lo schermo del mio tablet e proverete a seguirmi, anzi datemi feedback per vedere se vedete lo schermo e lo vedete bene, quello che io scriverò sul mio blocco note virtuale. Dopodiché, questa è la prima parte della lezione. La seconda parte, come vi dicevo, su Classroom riguarda sempre il ponte di Winston, ma vedremo come è possibile utilizzarlo anche in condizioni di squilibrio, in particolare come sistema di condizionamento, quindi come circuito di condizionamento per applicazione su sensori passivi e resistivi. Detto questo, allora io comincerei con provare a condividere il mio schermo dal tablet e vedete un attimo se riusciamo a vedere. Ok. Ovviamente con un po' di ritardo dovreste vedere, però spero riusciate a vedere. Se mi date un attimo un feedback. Sì, prof, si vede lo schermo del tablet e tutto. Perfetto, grazie. Allora, a questo punto dicevo, partiamo dal mezzo della doppia pesata. Perdonate la mia scuola. Perdonate la mia scuola. Spero sia un attimo disconnesso il PC Il collegamento di rete Un attimo solo Un attimo solo che metto il telefonino in hotspot Così magari riesco a non perdere Perché ho una serie di connessioni contemporanee oggi A casa, scusatemi Allora Innanzitutto Ci siete ragazzi? Date un feed Sì, troppo Ah, perfetto, ok Non mi sentite bene? Si sente un po' a tratti, a volte Ok, vedete adesso Perché adesso dovrebbe essersi ripristinata la connessione Sì, ora si sente bene Ok Un attimo solo Che riprendiamo da dove c'eravamo lasciati Ok Allora adesso dovrei riprendere a condividere lo schermo Eccoci qua Ecco qui Eccoci Allora vediamo Ci riproviamo allora Allora a questo punto dicevo Riprendiamo un attimo il discorso del ponte A cui eravate arrivati l'ultima volta Quindi Ridisegniamo un attimo il ponte Giusto per ricordarci come è fatto il ponte di Winston Ci avete Due resistenze fisse Che forse avete chiamato RA RRB Oppure R1 R2 Voglio dire non fa differenza E poi avete E poi avete Oltre al resistore incognito RX La resistenza campione RC In più In più avete il galvanometro Che consente di rilevare Lo squilibrio del ponte Sulla diagonale di rilelazione E quindi tra i vertici A e B E poi il ponte è alimentato Ovviamente in DC Attraverso Il professore vi ha fatto vedere Un reostato A cursore Che consente Di andare a variare In pratica la Tensione di alimentazione Che Andrete a Fornire Al ponte E Praticamente Per Attraverso Questa variazione Della tensione di alimentazione Poi grazie a questo reostato È possibile variare In generale anche La sensibilità Ma Quello che Avete Poi Visto È Attraverso ovviamente I principi di Kirchhoff Alle maglie I nodi Eccetera Eccetera All'equilibrio Che cosa avete Scoperto? Avete scoperto Che fondamentalmente RX È uguale A RA Su RB Per un certo valore Di RC1 Chiamiamolo RC1 Valore di RC Trovato All'equilibrio Quindi quando Il galvanometro Appunto Mi segna Praticamente Zero Ora In questa relazione Inoltre Vi abbiamo anche detto Che generalmente RA E Lo si fa in modo Da essere molto prossimo Ad RB In modo tale Da Diciamo avere Che RX Sia quasi Pari ad RC1 Ovviamente Ovviamente Però A causa Delle Toleranze A causa Delle Imperfezioni Dei resistori Per quanto RA e RB Possono essere Comunque Dei resistori Campione C'è una certa Diversità Tra RA Ed RB Che ovviamente Poi si porta In conto Nell'incertezza Di misura complessiva Cioè se io considero La formuletta RX uguale a RA Su RB Per RC1 Ovviamente Ci avrò Sicuramente Da dover Considerare Visto che è una misura Indiretta E visto che devo applicare Il principio Di operazione Dell'incertezza Un'incertezza Che dipenderà Anche da RA E da RB Oltre che da RC1 E oltre da quel termine Aggiuntivo Che il professore Vi ha detto Essere legato Alla sensibilità Complessiva Del ponte Quello che vi ha chiamato Come DRS E allora In cosa consiste Il metodo La doppia pesata Consiste nel Andare Praticamente A scambiare RA con RB E quindi Fondamentalmente Andare a Creare Un circuito Identico A quello di prima Quindi un ponte Identico A quello di prima Ma con Scambiate proprio Tra di loro RA ed RB Ovviamente Se andassi a ritrovare Qui di nuovo L'equilibrio Con la procedura Che vi ha detto Già il professore L'altra volta Otterremmo Una nuova relazione All'equilibrio Che mi consente Ancora una volta Di ottenere Rx Rx Uguale RB Fratto RC Per Scusatemi Fatto RA Per RC2 Dove RC2 Sarà per esempio Il valore nuovo Di RC Con questo nuovo Equilibrio Dovuto al fatto Che io ho scambiato RA ed RB Quindi in generale Ci avrò che RC1 È diverso Da RC2 Allora A questo punto Se io considero Questa relazione Quindi questa qui Che abbiamo Appena ottenuto E Quella precedente Quindi Rx Uguale RA Su RB Per RC1 Posso Pensare Di Moltiplicarle Per Ottenere Il Valore Complessivo Di RX In questo modo Complessivo In questo modo ra su rb per rb su ra per rcu per rc2 semplicemente moltiplicato le due relazioni all'equilibrio che abbiamo prima ottenuto ovviamente da questo che cosa si otterrà? semplificando ra ed rb si otterrà rcu per rc2 e quindi fondamentalmente che cosa otteniamo? che innanzitutto da questa relazione scompare ra ed rb e quindi scompaiono ra e rb e quindi anche le rispettive incertezze non compariranno ovviamente nella propagazione dell'incertezza finale e la rx si ottiene ovviamente visto che al primo membro c'è r quadro x come radice quadrata di rc1 per rc2 ok ora praticamente andiamo a capire un attimo poi come operativamente posso ottenere questa rx partendo a questo punto dai valori di rc1 e rc2 allora rc1 e rc2 vi ricordo che sono i due valori all'equilibrio ottenuti con variando appunto il resistore a decadi il resistore a decadi è lo stesso sia nel caso in cui ricerco il primo equilibrio sia nel caso in cui inverso rrb e ricerco il secondo equilibrio per ottenere diciamo la nuova rc2 e il fatto che sia di fatto lo stesso resistore a decadi fa sì che rc1 e rc2 fondamentalmente siano grandezze tra loro correlate per cui mi conviene cominciare già ad esplicitare un pochino queste correlazioni per capire chi sono questo rc1 e chi sono rc2 perché mi servirà non solo per il calcolo di rx ma anche per poi il calcolo dell'incertezza da associare ad rx in particolare se vado appunto a scrivere rc1 ed rc2 in funzione di una parte comune che ovviamente sarà identica per entrambe i valori di resistenza perché il resistore a decadi è lo stesso posso scrivere che rc1 è uguale ad r0 più un certo r1 piccolo dove r0 appunto è questa parte comune e rc2 invece lo posso esprimere per esempio come un r0 più r2 piccolo quindi vedete che andiamo a esprimere e esplicitare in qualche modo il fatto che i due resistori i due valori di resistenza scusate, proprio perché ottenuti dallo stesso resistore a decadi sono accomunati da una parte appunto comune r0 più una parte diciamo diversa e che caratterizza il valore di rc1 e di rc2 rispettivamente che abbiamo indicato con r1 ed r2 solitamente diciamo r1 ed r2 r1 piccolo e r2 piccolo sono abbastanza più piccoli di r0 perché poi in ogni caso teniamo presente che partiamo da una condizione in cui r1 ed rb sono comunque per quanto diverse ma abbastanza prossime tra loro e quindi ci aspettiamo in generale che rc1 sia abbastanza prossimo ad rc2 e quindi che r1 ed r2 fondamentalmente siano abbastanza piccole rispetto ad r0 cioè quello che ci aspettiamo è che in generale r1,r2 sia molto minore in generale di r0 giusto per fare un esempio numerico e quindi capire un pochino questa scomposizione che abbiamo fatto che cosa significa immaginiamo che rc1 sia stata trovata il valore per rc1 quindi al primo equilibrio di per esempio 597.716 ohm e che rc2 quindi il valore di resistenza al secondo equilibrio avendo scambiato rA con rb sia uguale a 597.643 ohm allora a questo punto che cosa otteniamo? che quali sono le parti che accomunano i due valori di resistenza quindi andiamo a individuare r0 e poi r1 ed r2 allora per quanto riguarda r0 abbiamo che sicuramente le prime la prima parte di resistenza è identica quindi 597 è sicuramente identico ad entrambi e in più per quanto riguarda le decadi successive del resistore a decadi sicuramente abbiamo che il valore da un lato 0.7 ohm dall'altro 0.6 ohm sicuramente si accomunano per il valore 0.6 e quindi questo 6 diciamo lo possiamo cominciare a considerare come valore comune poi abbiamo considerando le decadi che riguardano le decine di milliohm tra 1 e 4 1 sicuramente accumulerà entrambe le decade perché diciamo poi il 4 si otterrà come 1 più 3 come invece prima il 7 si otterrà come 6 più 1 e infine per quanto riguarda l'ultima decade quindi quella che dovrebbe rappresentare per esempio i milliohm abbiamo che la parte comune vale 3 e perché poi aggiungendo 3 milliohm si ottengono i 6 milliohm che stanno in RC1 di conseguenza che cosa succederà che R1 sarà uguale a 0,103 ohm mentre R2 sarà uguale a 0,030 ohm ok? e questo è giusto per farvi vedere un esempio numerico di quello che stavamo dicendo prima vi faccio pure notare appunto come se vado a considerare appunto questi valori ottenuti sia valida quella considerazione che dicevamo prima e cioè che R1 e R2 sono molto minori di R0 questa considerazione poi ci servirà vedrete per fare una serie di semplificazioni sia nella stima di Rx sia nella stima dell'incertezza da associare ora andiamo a questo punto a vedere appunto come si decompone Rx e quindi Rx abbiamo detto è uguale Rc1 per Rc2 che è ancora uguale cioè la radice uguale scusatemi di Rc1 per Rc2 che è ancora uguale a questo punto R0 più R1 per R0 più R2 che è ancora uguale se vado a sviluppare ovviamente R4 0 più R0 R1 più R2 più R1 per R2 che è uguale a mettendo in evidenza R0 1 più R1 più R2 fratto R0 più R1 per R2 fratto R4 0 che è circa se considero che R1 per R2 fratto R0 quadro per i motivi che dicevamo prima è sicuramente molto piccolo posso trascurare il terzo da ebbene sotto radice sotto radice scusatemi ottenere R0 per radice quadrata di 1 più R1 più R2 fratto R0 ora che cosa so anche dall'analisi matematica che praticamente io in generale posso dire che 1 più alfa elevato ad n è circa 1 più n per alfa nel caso in cui alfa sia molto minore di 1 e in questo caso specifico considerando che alfa non è altro che R1 più R2 diviso R0 e che appunto ci troviamo in queste condizioni in cui alfa è molto minore di 1 possiamo ritenere che questo possa essere a sua volta scritto come R0 per 1 più R1 più R2 fratto R0 alla un mezzo ovvero circa grazie a questa approssimazione che dicevamo R0 per 1 più R1 più R2 fratto 2 R0 da cui semplificando R0 portando dentro R0 otteniamo praticamente professore si è bloccato tutto non si vede niente un attimo solo che vediamo se il mio tablet vediamo se si riprende un attimo solo provo un attimo a ricollegarmi provo a rifare l'accesso provo un attimo ecco qua vediamo un secondo troppo oggi è ingegneria la rete avrebbe funzionato probabilmente ancora peggio non so se avete avuto la la notizia eccolo qua adesso dovreste rivedere i passaggi che ho fatto riuscite a vedere sullo schermo adesso? si li vedono ok quindi dicevo semplifichiamo r0 e otteniamo fondamentalmente che poiché r0 più r1 è rc1 per come l'abbiamo definita e poi r0 più r2 è rc2 fondamentalmente grazie a queste approssimazioni diciamo che possiamo ottenere il valore finale di resistenza rx come media aritmetica di rc1 ed rc2 quindi fondamentalmente siamo partiti dalla media geometrica perché facevamo la radice quadrata di rc1 per rc2 e siamo arrivati attraverso le semplificazioni fondamentalmente alla media aritmetica ora detto questo come valutiamo l'incertezza l'incertezza di misura la valutiamo attraverso ovviamente il fatto che scriviamo innanzitutto valutazione l'incertezza allora praticamente la valutazione dell'incertezza come la otteniamo dobbiamo ricordarci che per quanto riguarda il valore di rx l'incertezza l'abbiamo raggiunta in due equilibri in due valori in due momenti con due equilibri diversi innanzitutto una prima formuletta che abbiamo ottenuto prima che era ra su rb per rc1 a cui dobbiamo aggiungere il coefficiente scusatemi quel termine drs1 che indica la sensibilità che è stata appunto ottenuta nel primo equilibrio nel raggiungimento del primo equilibrio e poi avete rx uguale rb fratto ra per rc2 più drs2 sostanzialmente ok quindi dobbiamo ricordarci almeno nella valutazione dell'incertezza anche di questo termine di cui avete già discusso con il professore Betta a questo punto moltiplicando queste due formule membro a membro otteniamo che rx ancora una volta può essere scritto come radice quadrata di rc1 per rc2 più drs1 che moltiplica rb su ra per rc2 più drs2 che moltiplica ra su rb per rc1 più drs1 per drs2 ovvero considerando che drs1 per drs2 porterebbe ad una moltiplicazione ad un termine trascurabile prossimo a 0 visto il significato infinitesimo di questi appunto termini considerando che rc1 è r0 più r1 ed rc2 è r0 più r2 facciamo questa sostituzione otteniamo r0 quadro più r0 che moltiplica r1 più r2 più r1 per r2 più drs1 per rb su ra per r0 più r2 più drs2 per ra su rb per r0 più r1 ora facendo un po' di passaggi che comunque trovate anche sulle dispense che vi abbiamo messo a disposizione quindi li risparmiamo visto anche diciamo che abbiamo poco tempo a disposizione a causa anche di queste problematiche di connessione allora arriveremo a una situazione in cui fondamentalmente grazie all'approssimazione che r quadro su scusatemi r2 su r0 quadro è molto minore di 1 su r0 r1 fratto r quadro 0 molto minore di 1 su r0 e r1 per r2 fratto r quadro 0 che tende a 0 otterremo che praticamente quella radice quadrata diventerà attraverso ripeto un po' di passaggetti matematici che potete anche eseguire voi da soli poi magari li confrontiamo se per qualche motivo non vi trovate che la mia r x è data da r0 per radice quadrata di 1 più r1 più r2 su r0 più 1 su r0 che moltiplica drs1 per rb su ra più drs2 per ra su rb tutto sotto radice quadrata a questo punto ragionando come abbiamo fatto prima e quindi considerando che fondamentalmente può valere l'approssimazione 1 più alfa elevata alla n e circa 1 più n alfa nel caso in cui alfa è molto minore di 1 poiché il termine sottoradice r1 più r2 diviso r0 più 1 su r0 che moltiplica drs1 rb su ra più drs2 ra su rb è molto minore di 1 allora siamo in queste condizioni e quindi il tutto porterà in pratica a dire che la mia rx è circa r0 che moltiplica 1 più r1 più r2 fratto 2 r0 più 1 fratto 2 r0 che moltiplica drs1 per rb diviso r a più drs2 per r a fratto rb ok a questo punto ulteriore piccola semplificazione ipotizzando che comunque r a è prossima ad rb facendo ancora qualche passaggino si arriva a r0 più r1 più r2 diviso 2 più drs1 più drs2 diviso 2 ok quindi questi sono questa è la diciamo formuletta finale per quanto riguarda l'approssimazione che a questo punto avremo di rx e a questo punto ancora una volta noto che grazie almeno della doppia pesata non compare non comparirà diciamo r a ed rb esplicitamente quindi fondamentalmente ci siamo svincolati dalle incertezze su questi due resistori campione e rimarranno solo questi termini in particolare applicando la propagazione dell'incertezza e ricordandoci che questo fondamentalmente è un caso notevole perché abbiamo la somma di termini diciamo per i quali appunto ciascuno di questi porterà un suo contributo di incertezza in pratica possiamo magari evitare di fare derivate ma se le facciamo non facciamo un errore in generale e dire comunque che u quadro di rx è uguale a u quadro di r0 più un quarto u quadro di r1 più u quadro di r2 più un quarto di u quadro di rs1 più u quadro di rs2 dove ovviamente che cosa avete qua che i termini u dr0 e u dr1 e u dr2 sono deducibili dalle specifiche del costruttore del resistore a decadi mentre invece i termini legati a u drs1 e u drs2 ovviamente sono ottenibili con l'approccio sperimentale che vi ha spiegato l'altra volta il professore e bette cioè quello di andare a considerare una distribuzione rettangolare dare una deviazione dare scusatemi una variazione finita al resistore a decadi nel caso di drs1 quando ha raggiunto il valore rc1 nel caso di drs2 quando ha raggiunto il valore rc2 andare a conteggiare i delta lambda e applicare quelle formulette che avete già visto nella scorsa lezione quindi fondamentalmente utilizzerete un approccio empirico anche durante le esercitazioni per poi determinare i numeretti che serviranno per andare a calcolare queste due componenti di incertezza legate anche alla sensibilità mentre invece r0 r1 r2 li ottenete dai data sheet del resistore a decada detto questo quindi diciamo il metodo della doppia pesata termina qui e appunto ha raggiunto l'obiettivo di svincolarsi dall'incertezza sul su r.a. e su r.b. Ora in cosa consiste invece la tecnica della sostituzione allora la tecnica della sostituzione che cosa prevede allora la tecnica della sostituzione come dice la parola stessa prevede che a un certo punto dopo aver raggiunto il primo equilibrio e quindi quello lì che ci dava rx uguale r.a. su r.b. per r.c. 1 si realizzi un circuito leggermente diverso in cui fondamentalmente abbiamo il solito ponte quindi in cui abbiamo le prime due resistenze r.a. ed r.b. ma che preveda la sostituzione appunto della resistenza incognita r.x con con un altro resistore a decadi r.c.2 variabile e che consenta fondamentalmente una volta fissato il valore di r.c.1 di andare a ricercare un nuovo equilibrio e quindi che cosa succede che si andrà a variare r.c.2 fino a quando non si troverà un nuovo equilibrio in tale condizione che cosa succede che r.c.2 varrà r.a. su r.b. per r.c.1 cioè ovviamente avendo sostituito r.c.2 con r.x r.c.2 la relazione sarà esattamente la stessa ovviamente sarà ricercato un nuovo equilibrio però otterremo senza aver variato r.c.1 siamo andati a variare r.c.2 questa volta a questo punto che cosa succede che ovviamente che cosa avremo avremo che r.x di fatto è coincide con r.c.2 a questo punto e quindi ancora una volta r.x non dipenderà più da r.a. ed r.b. e quindi otteniamo l'obiettivo di partenza per quanto riguarda a questo punto l'incertezza di misura come si valuta l'incertezza di misura in questi casi allora si valuta facendo in questo modo e cioè ricordiamoci che r.x appunto abbiamo detto che di fatto è r.c.2 ma dobbiamo sempre tenere presente del fatto che nel calcolo dell'incertezza dobbiamo tenere presente della sensibilità finita che abbiamo raggiunto e quindi del fatto che nei due equilibri abbiamo di fatto da dover considerare due termini aggiuntivi che sono il drs1 che era quello che avevo ottenuto con il primo equilibrio e poi quando ho sostituito r.x con r.c.2 e ho trovato un nuovo equilibrio ovviamente anche qui avrò un termine aggiuntivo che qui chiamiamo drs2 a questo punto poiché tutto sommato possiamo ritenere senz'altro che drs1 sia molto prossimo a drs2 perché diciamo non proprio identico visto che comunque r.c.2 andrà a equilibrare r.x in un modo praticamente identico andrà a equilibrare scusatemi il punto in un modo identico a quanto avrebbe fatto r.x possiamo senz'altro ritenere che drs1 è circa se non uguale a drs2 quindi questa relazione diventa r.x uguale a r.c.2 più due volte un certo drs che diciamo a questo punto ci togliamo il pedici da qui che cosa deriverà applicando l'impinggirio di variazione dell'incertezza che u quadro di r.x è uguale scusatemi a u quadro di r.c.2 più 4 u quadro di drs dove ancora una volta diciamo il termine udrc2 dipenderà dalle specifiche del resistore a decadi che abbiamo utilizzato mentre invece il termine drs potrà essere utilizzato potrà essere valutato sperimentalmente considerando appunto le variazioni diciamo di r.c1 di r.c2 che hanno provocato un certo numero di tacchette delta lambda di deviazione sul galvanometro ovviamente in questo caso specifico per implementare questa tecnica è stato necessario utilizzare un ulteriore resistore a decadi l'r.c2 quindi ne abbiamo due ne dovremmo avere due a disposizione ovviamente nella seconda misura r.c1 è fisso mentre r.c2 andrà a variare per raggiungere l'equilibrio ovviamente r.c2 dovrà avere le stesse caratteristiche metrologiche quindi in termini di diciamo acchiurasi del resistore a decadi a d.c1 per ovviamente non pregiudicare poi tutto il ragionamento sull'incertezza del ponte detto questo quindi questa seconda tecnica consente anche nel caso specifico di ottenere che l'incertezza sia indipendente da r.a. su r.d.m. o comunque dai valori di queste resistenze e quindi ancora una volta ci siamo svincolati da quel problema di cui dicevamo ora a questo punto possiamo se non avete domande su questo passare sulle slide che vi ho condiviso e che riguardano invece l'uso del ponte di Viston come ponte allo squilibrio posso passare alle slide ovviamente tutti questi passaggi che abbiamo fatto qui no no scusatemi prof ma diciamo quindi che la scelta tra queste due tecniche è legata alla possibilità di avere un resistore in più certo assolutamente la tecnica della doppia pesata è più banale da implementare perché basta scambiare il ride e il RB nello stesso circuito quindi con lo stesso resistore a decadi non ho necessità di avere doppio resistore a decadi e così via che comunque è un costo come oggetto invece questa tecnica della sostituzione ovviamente richiede un altro resistore a decadi di pari precisione a chiudesi del resistore precedente quindi ha un costo un po' maggiore in generale però consente di ottenere fondamentalmente delle incertezze ancora più basse in generale ma comunque sicuramente in ogni caso le due tecniche consentono di migliorare l'incertezza rispetto al caso della singola pesata come vi accorgerete anche dai conti che farete durante l'esercitazione ok ovviamente tutti questi passaggi su cui magari sono andato anche un po' veloce sono tutti passaggetti matematici che comunque trovate anche dettagliati nella dispensa che vi abbiamo messo a disposizione sul ponte di Wilson ok ora a questo punto continuiamo con la parte che riguarda le slide ovvero la vedete? al solito datemi un feedback a voce si prof si vedono le slide perfetto ok allora andare a vedere rapidamente perché non è diciamo non ci vuole tantissimo tempo come il ponte di Wilson possa essere utilizzato anche per il condizionamento di sensore resistibile innanzitutto capiamo che cosa significa condizionamento allora se vi ricordate quando il professore Betta vi ha cominciato a descrivere più o meno l'architettura generale di un sistema di misura vi ha detto quando avete parlato anche delle caratteristiche metrologiche probabilmente vi ha detto che il primo elemento di una catena di misura è generalmente un elemento che si chiama sensore o trasduttore che ha il compito di sentire la grandezza fisica di interesse che può essere uno spostamento una temperatura una pressione una velocità e così via e di trasformare questa grandezza fisica qualsivoglia in una grandezza elettrica che appunto può essere misurata attraverso uno strumento che fa misure elettriche tipicamente i sensori trasduttori hanno come output come tipologia di grandezza elettrica a seconda dei casi hanno direttamente una tensione piuttosto che possono produrre una corrente oppure più spesso una resistenza un'impedenza oppure una variazione di frequenza poiché poi come vedrete anche nelle prossime lezioni il blocco di digitalizzazione che effettua la compressione analogico-digitale del segnale di ingresso richiede appunto al suo ingresso una grandezza elettrica adeguata in termini di valore ma anche diciamo deve essere una differenza di potenziale allora nelle situazioni in cui i sensori producono come variazione in seguito ad una variazione della grandezza di ingresso producono una variazione per esempio resistiva e quindi una variazione di resistenza c'è bisogno di un blocco di condizionamento intermedio che faccia da tramite e quindi che faccia da conversione di questa variazione di resistenza in una variazione di tensione per poter essere poi trattata tutto ciò che viene dopo in particolare allora riferendosi ai sensori resistivi cioè quei sensori che manifestano una variazione di resistenza nel momento in cui la grandezza fisica che loro stanno sentendo subisce a sua volta una variazione sono molto comuni in molteplici applicazioni dove per esempio si hanno variazioni di temperatura spostamenti presenza di gas variazioni di umidità e così via molto spesso il sentire variazioni di temperatura spostamenti presenza di gas umidità si fa attraverso dei sensori resistivi e qui sotto trovate qualche esempio di termistori e rtd che sono per esempio proprio dei classici resistori la cui valore di resistenza varia in funzione della temperatura che sentono e poi per esempio qui in basso a destra invece trovate gli estensimetri o in inglese string gauge che sono dei sensori ancora una volta resistivi che praticamente si montano tipo dei francobolli sono molto piccoli si appiccicano al materiale di cui si vuole valutare per esempio la torsione piuttosto che l'estensione e se questo materiale a causa di qualche effetto come può essere un terremoto piuttosto che semplicemente uno spostamento del materiale quindi del cemento che sostanzialmente è solidale con questo francobollo attacciccicato sopra se si verifica questo spostamento longitudinale per esempio rispetto alla direzione di installazione di questo sensore si ha una produzione di una variazione di resistenza e quindi fondamentalmente capite che giusto io ho fatto giusto degli esempi molto veloci e banali perché non sono oggetto di questo corso magari potreste studiarlo nel corso di tecniche di programmazione dove c'è una parte in cui il professore Ferrigno che collega del mio raggruppamento vi descrive proprio la parte di sensori di sensoristica proprio per varie tipologie di applicazioni e però fondamentalmente volendo riassumere avete che molteplici grandezze fisiche in pratica si possono misurare attraverso l'impiego di sensori resistivi quindi sensori che vi forniscono una variazione di resistenza in funzione della variazione della grandezza fisica in ingresso allora a questo punto che cosa significa significa che lo che io ho come obiettivo tornando al discorso dello schema iniziale di far diventare poi questa grandezza fisica in ingresso variazione di temperatura di lunghezza di pressione o quello che volete prima o poi deve diventare una variazione di tensione perché solo così la posso digitalizzare abbiamo detto abbiamo bisogno di un sistema intermedio che prende il nome di blocco di condizionamento che ha lo scopo di effettuare questa trasformazione ebbene il ponte di Whiston si presta anche a questo nel senso che se invece di andare a costituirlo con due resistori fissi e uno a decadi variabile per cercare di misurare il valore di RX attraverso il raggiungimento di un equilibrio sulla diagonale di rivelazione noi possiamo pensare di avendo RX resistenza incognita legata a quella grandezza fisica di cui dicevamo prima e avendo R1 R2 R3 fisse posso pensare di andare a misurarmi il valore di V con M che si produce ai capi della diagonale di rivelazione a B e scoprire che fondamentalmente non è altro che funzione del valore della resistenza RX questa volta incognita e che è legata appunto al sensore che subisce una variazione in funzione della variazione della grandezza fisica in ingresso tant'è che se io vado appunto questo ovviamente il ponte di visto è ridisegnato giusto in maniera più comoda invece di come dire a rombo a rettangolo ma semplicemente per applicare in maniera intuitivamente più semplice le regole del partitore nel senso che visivamente si vede più semplicemente cosa è V con A e cosa è V con B perché qua di fatto avete un partitore resistivo sia su questa maglia che su quest'altra qui e quindi fondamentalmente potete in pratica andare a ottenere che V con A è uguale trascurando la resistenza interna del generatore che è un'ipotesi abbastanza realistica sempre che V con A è uguale a E con S per Rx fratto R1 più Rx e V con B non è altro che E con S per R3 fratto R2 più R3 facendone la differenza appunto ottengo V a B e si ottiene questa questa formuletta da qui appunto che cosa capisco capisco in pratica che da una misura di V con M in pratica attraverso per esempio un voltometro oppure attraverso appunto semplicemente il campionamento l'acquisizione di questo segnale è possibile invertendo questa relazione in pratica risalire ad Rx quindi alla grandezza poi fisica di ingresso perché poi ogni sensore ha una sua caratteristica di ingresso-uscita appunto che poi mette in relazione il valore di resistenza Rx in uscita rispetto al valore in ingresso della grandezza fisica ora come si dimensiona un ponte che deve fare questo questo mestiere un ponte di Winston allora immaginando che R0 sia il valore di Rx in determinate condizioni di riferimento praticamente e che possono essere delle condizioni nominali di funzionamento anche per quella grandezza solitamente si dovrebbe imporre che R1 R2 ed R3 debbano essere quanto più prossime possibili a questo valore di R0 una volta che ho dimensionato e quindi ho scelto queste resistenze poi in tali condizioni il ponte consente di sentire per esempio la variazione R0 più delta R0 che ci può essere a causa della variazione della grandezza fisica per ottenere queste formulette che sono state riportate qui in pratica la V con M è uguale a quella di prima ovviamente e qui si esplicitano i valori che abbiamo detto qui nel dimensionamento e quindi quanto vale R2 quanto vale R3 quanto vale R1 e ipotizzando che Rx appunto abbia subito una variazione di R0 più delta L facendo come al solito un po' di passaggi matematici si ottiene questa relazione che mette anche in evidenza che in generale il legame diciamo con la variazione del terra zero a cui posso essere in generale interessato non è lineare quindi il legame che c'è tra V con M e delta R0 non è lineare perché ce l'avete anche al denominatore a meno che non vi trovate in una condizione in cui siete ai piccoli segnali e quindi delta R0 è molto minore di R0 che significa che praticamente questo denominatore cioè scusatemi che questo termine può essere ritenuto trascurabile e quindi ottenere che V con M è uguale a D con S su 4 per delta R0 su R0 ovvero diciamo una relazione intusommato lineare inoltre vi faccio pure notare come a parità di delta R0 quindi di variazione fondamentalmente della grandezza fisica in ingresso che poi ha prodotto una variazione sulla resistenza sul sensore resistivo la sensibilità e quindi la capacità di riuscire ad apprezzare queste variazioni in maniera significativa e quindi di produrre fondamentalmente una variazione di tensione facilmente elegibile e misurabile dipende da questo termine qua fondamentalmente e quindi anche dalla tensione di alimentazione maggiore la tensione di alimentazione maggiore sarà la sensibilità del ponte tant'è che l'avete anche visto col professore Betta quando avete parlato appunto della sensibilità del ponte di Viston utilizzata all'equilibrio vi faccio giusto notare questa cosa e chiudiamo che in alcune situazioni proprio per cercare di linearizzare da un lato la relazione che lega V con M a delta R0 e per aumentare anche la sensibilità del ponte si prevedono dei montaggi push-pull che sono dei montaggi in cui se io riesco a montare all'interno del ponte un sistema gemello a quello che già c'era prima è che però sente le variazioni della grandezza in ingresso del T-R0 con un segno opposto rispetto a quello che sarebbe la variazione sentita del Rx con 1 quindi Rx1 sente magari più del T-R0 l'altra sente meno del T-R0 allora sempre facendo un po' di passaggi matematici si arriva in pratica a questa formuletta che rispetto a prima vedete è intrinsecamente lineare ed in più c'è un raddoppio della sensibilità perché invece di avere quattro a denominatore qua ci abbiamo due confrontata con questa qui ok? infine se addirittura riuscite a montare un sistema con quattro elementi variabili che soddisfino queste condizioni e cioè che ancora una volta Rx1 e Rx con 2 sentano le variazioni in senso opposto alla grandezza fisica e invece Rx3 e Rx4 facciano la stessa cosa però nelle condizioni diciamo in condizioni incrociate cioè che Rx con 3 si comporti come Rx con 1 per una data variazione del T-R0 e Rx con 4 si comporti come Rx con 2 si può dimostrare sempre facendo dei passaggi matematici che V con M questa volta è dato da E con S per delta R0 e R0 ovvero relazione ancora una volta lineare rispetto a delta R0 ma soprattutto un aumento ulteriore della sensibilità perché nel caso precedente avevamo S mezzi e qui invece E con S quindi a parità di E con S di delta R0 otteniamo una V con M più grande e quindi più facilmente misurabile come si fanno a ottenere questi montaggi ovviamente non è sempre possibile farlo nel senso che appunto nel caso degli estensimetri basta montare per esempio questi due francobolli sopra e sotto esattamente rispetto alla superficie di cui si vuole valutare per esempio la torsione o l'estensione perché automaticamente facendo così nel momento in cui si subisce un allungamento da una parte si ottiene un accorciamento praticamente dall'altro lato e quindi esattamente quel più delta R0 magari da una parte e il meno delta R0 dall'altra parte detto questo direi che con questa parte abbiamo concluso se avete domande poi potete o farmele dopo durante il ricevimento perché comunque c'è da parte mia la disponibilità di ricevimento dopo oppure possiamo ovviamente verificare nelle prossime lezioni anche durante le recitazioni di ricevimento di ricevimento di ricevimento di ricevimento di ricevimento